Morte a Loreto Mare, ipotesi, omicidio colposo. Convocati dalla Procura di Napoli, medici del pronto soccorso finiti sotto accusa per la morte del 23enne Antonio Scafuri. Gravi ritardi e liti per decidere sulla necessità di un esame diagnostico. Rugo tossico a Cercola, brucia Montevergine. Spaventoso incendio di rifiuti speciali tra Cercola e Volla, a poca distanza dalla statale 162. E di nuova emergenza a Montevergine e le fiamme, a ridosso del centro abitato di Mercogliano. Voto in cambio di favori, bufera sul voto a Nocera. Quattro arresti, 20 indagati nel comune salernitano per le elezioni di giugno. Nel Mirino un consigliere comunale di maggioranza, eletto con il sindaco Torquato e altri candidati non eletti. 15, la camorra fa saltare una palazzina. Esplosione nella notte nel comune del Vallo Lauro, nessun ferito per gli inquirenti è stato un attentato. Edificio di proprietà dell'ex consigliere provinciale Bonavita che dice, episodio inespiegabile. Stangata sui ticket e polemica a Pompei. Dal prossimo anno aumenta il biglietto per gli scavi. Si passa da 11 a 15 euro. Decisione che fa discutere e suscita proteste. Previsti rincari sui biglietti anche di altri siti archeologici in provincia di Napoli. Benevento, l'esordio in anno, non ha deluso i tifosi. Il giorno dopo, lo storico debutto nella massima serie del calcio della squadra giallorossa, le impressioni dei cittadini. Squadra promossa, bene la personalità e l'autorevolezza dimostrate a Genova. Buonasera, ben ritrovati con il nuovo telegiornale di 8 Channel News. Quelli che abbiamo appena seguito erano i nostri titoli. Come avete sentito in apertura, il caso della morte in corsia a Loreto Mare. Si indaga per omicidio colposo. Oggi anche il direttore generale dell'Asla, Napoli 1 Forlenza, ha presentato denuncia in procura. Intanto domattina arrivano gli ispettori inviati dal ministro Lorenzino. La procura di Napoli ha aperto un fascicolo con l'ipotesi di omicidio colposo per la morte del 23enne Antonio Scafuri, avvenuta dopo che il giovane è stato ricoverato in codice rosso all'ospedale Loreto Mare ed ha atteso alcune ore prima di essere sottoposto ad un esame diagnostico. Gli inquirenti eseguiranno una serie di accertamenti preliminari, tra questi l'acquisizione della cartella clinica, l'audizione dei testimoni e domattina arrivano gli ispettori in assi inviati dal ministro Lorenzin. L'esame autoptico sarà svolto in settimana contestualmente. Verranno emessi gli avvisi di garanzia nei confronti degli indagati. Vuole una battaglia di verità, lo dice senza mezze misure, il direttore generale dell'ASL Napoli 1 Mario Forlenza che ha presentato anche gli denuncia. Stamattina acquisirò una prima relazione fatta dalla direzione sanitaria che sarà sicuramente una relazione sommaria, ma è mia intenzione prendere questa relazione, le dichiarazioni che ha fatto il dottor Pietro Luongo, il direttore del pronto soccorso che ha segnalato la vicenda e ulteriori atti che io sono in possesso e di portarli in procura. Dal canto suo il padre del ragazzo morto non si dà pace e dice me lo hanno ammazzato mio figlio, è stato ucciso. Mentre lui moriva al pronto soccorso litigavano per decidere chi dovesse salire sull'ambulanza che doveva portare il mio Antonio a fare un angiotac. Sicuramente ci sono stati dei ritardi. La volontà della famiglia è quella di portare alla luce la verità. Quindi noi con ogni mezzo tenteremo di far emergere quanto accaduto. partendo da quello che è sostanzialmente il sinistro stradale fino al decesso e passando per quello che è il lungo travaglio all'interno appunto del Loreto Mare e anche con il passaggio al vecchio Pellegrini. E anche quella di oggi in Regione Campania è stata una giornata all'insegna degli incendi. Molta paura a Ponticelli dove addirittura sono esplose bombole di gas. Intanto in Urpinia resta l'emergenza a Montella, Montevergine e anche a 15. Ancora incendi e fiamme alte in Campania. Stamattina a prendere fuoco è stata una delle aree verdi tra Ponticelli e i comuni di Volla e Cercola. La colonna di fumo visibile da chilometri di distanza è stata generata dalle bombole di gas esplose nel corso dell'incendio e dai copertoni accatastati in zona. L'intervento dei vigili del fuoco è stato effettuato ai margini della statale 268 in direzione dei paesi vesuviani. E riesplode l'emergenza anche a Montevergine dopo ore di relativa tranquillità che avevano consentito di riaprire la strada verso il santuario. Nel pomeriggio è evacuato Campo Maggiore dove si erano radunati pellegrini e turisti per un picnic. È stato lo stesso piloto dell'elicottero operando nella parte sommitale a consigliare di far scendere le persone che stanno lì perché ha visto effettivamente molte persone e ha consigliato di farle scendere perché se dovesse girare il vento e dovessero peggiorare le condizioni nella parte alta potrebbe essere poi difficile farli scendere. Quindi in via precauzionale abbiamo chiesto ai carabinieri di farli scendere. Chiusa la funicolare è paura a Mercogliano dove le fiamme hanno lambito le abitazioni. Molto preoccupato pure perché abito là a 20 metri dalle fiamme. Stanno distruggendo tutto il patrimonio della montagna di Montevergine e padre a padre sta molto dispiaciuto anche il comune di Mercogliano e anche noi cittadini di Mercogliano. Preoccupata? Certamente, per diversi motivi. Non solo perché è vicino al centro abitato ma anche per le conseguenze nell'inverno. Qualche frale. Preoccupa anche la situazione a Montella dove stanno andando in fumo i principali castagnetti della zona. Abbiamo un Canadair e un elicottero, stanno lavorando incessantemente e stanno ancora operando. Diciamo non sappiamo se si possa chiudere per stasera. Traffico rallentato diversi chilometri di coda sulla 2 all'altezza dello svincolo di Polla nel Salernitano dove nella tarda mattinata un tir ha perso il carico di pomodori sulla rampa d'ingresso in autostrada. Migliaia di pomodori sulla carreggiata e la circolazione che è finita in tilt. Al lavoro per ore il personale Atas, Anas, ma intanto sulla 2 la situazione è tornata alla normalità soltanto dopo diverse ore. E adesso cambiamo argomento. Rincara il biglietto degli scavi di Pompei a partire dal prossimo anno. Una decisione salutata con favore dai tour operator. Rossella Stianese. Scavi di Pompei, biglietti più cari, si passa da 11 a 15 euro. Attualmente i visitatori pagano già 13 euro e sarà così fino al 27 novembre di quest'anno perché la visita al sito prevede l'aggiunta di 2 euro quale supplemento per le mostre allestite nel parco archeologico. A darne notizia, a PompeiCities.org, il sito della soprintendenza e la comunicazione della variazione delle tariffe è stata già data ai tour operator e agli enti per dar loro il tempo di aggiornare i pacchetti turistici. L'aumento del biglietto a 15 euro scatterà dal 1 aprile 2018. Il ridotto costerà 9 euro anziché 7,50 euro. Questo ticket includerà anche l'accesso ad eventuali mostre ed esposizioni temporanee. Non solo Pompei, rincari previsti dei biglietti anche per gli altri siti di competenza del parco archeologico. 7 euro per Oplontis e Bosco Reale. 18 euro se si vuole comprare il biglietto cumulativo per i tre siti. La notizia non è stata salutata con favore da tutti. Il timore è che questo aumento disincentivi la visita agli scavi che negli ultimi anni hanno fatto registrare numeri record di affluenza. I tour operator invece si dicono favorevoli all'aumento. Il presidente della FIAVET Campania, Ettore Cucari, plaude alla decisione del direttore Osanna. Ora il prossimo passo, auspicano gli addetti ai lavori, dovrà essere l'istituzione del biglietto di due giorni che consentirebbe ai turisti di entrare e uscire dagli scavi programmando di restare a dormire almeno una notte. Sarebbe un grande aiuto anche a tutta l'industria ricettiva di Pompei e dintorni che al momento vive soltanto di un turismo mordi e fuggi. Quattro persone arrestate, altre 20 indagate, bufera giudiziaria sul comune di Nocera Inferiore. Ci racconta tutto il collega Giovanni Battista Lanzilli. Associazione a delinquere di stampo camorristico, scambio elettorale politico mafioso, corruzione elettorale, estorsione e violenza privata. Sono queste le pesantissime accuse a vario titolo nei confronti di quattro persone arrestate dai carabinieri del ROS di Salerno su delega di procura e DDA. In manette sono finiti Antonio Pignataro, Ciro Eboli, Luigi Sarno e il consigliere uscente Carlo Bianco che in una intercettazione dice di aver provveduto a far approvare una delibera per la realizzazione di una casa d'accoglienza che interessava al clan. Voglio una copia che la delibera, perché lui mi ha proprio il tindone. E' una dacia per il tuo bravo, dì a mano, dì a parola mia, ci mandano tutti. Una nuova bufera giudiziaria si abbatte dunque sulla politica salernitana. Nel Mirino, il comune di Nocera Inferiore. Oltre 20 le persone indagate, fra cui il consigliere comunale di maggioranza Nicola Maisto che avrebbe pagato 50 euro per ogni voto fotografato nell'urna. Il quadro ricostruito dalla procura getta un'ombra sinistra sui rapporti che legano esponenti della criminalità a candidati degli schieramenti nell'ultima tornata elettorale nell'agro, sia con l'attuale sindaco di centrosinistra, Maglio Torquato, che con il principale antagonista di centrodestra, Pasquale Dacunzi. Per il procuratore Lembo, quello che viene fuori è un quadro preoccupante nel quale la camorra si muove tra le opacità della politica e dell'azione amministrativa. Grosse realtà comunali sono oggetto di interesse anche da parte delle organizzazioni criminali. Al vertice del sodalizio, Antonio Pignataro, meglio conosciuto come Ziantonio, esponente di spicco della NCO di Raffaele Cutolo, è condannato a 30 anni per l'omicidio della 12enne Simonetta Lamberti. Per Nocera, che è andato al voto solo qualche mese fa, c'è dunque il rischio concreto che si vada allo scioglimento anticipato del Comune. Tra la procura distrettuale antimafia e la prefettura di Salerno si è instaurato un rapporto di efficace cooperazione istituzionale, che è un atto doveroso delle istituzioni. Un cavallo imbizzarrito è stato avvistato sulla strada statale 7 bis, tra l'acopatria e Varcaturo. Galoppava nella corsia di sorpasso e contromano. Tanta paura, molte frenate, tanti scatti, e quanto accaduto appunto sulla superstrada, che conduce direttamente alla tangenziale, decine le segnalazioni degli automobilisti fatte alla forza dell'ordine. A preoccupare oltre la presenza del cavallo era stato anche il fatto che galoppava appunto contromano. Esplosione nel cuore della notte a 15 nel Vallo Lauro, dove torna la paura, nel mirino la casa in fase di ristrutturazione dell'avvocato civilista Paolino Bonavita. Sentiamo. Torna la paura nel Vallo Lauro. La scorsa notte una potente esplosione ha svegliato gli abitanti di 15. La deflagrazione è avvenuta in una casa in fase di ristrutturazione nei pressi di piazza San Sebastiano di Paolino Bonavita, avvocato civilista. Nessun ferito, ma la casa è inagibile. Indagano i carabinieri sull'esplosione di origine dolosa. Trovate tracce di liquido infiammabile e residui di un ordigno che potrebbe essere stato innescato a distanza. Lo stesso avvocato non si esprime sulle cause dell'attentato. Non so niente. Mi hanno avvisato che c'è stato un scopio, qualcosa, nella mia abitazione in via San Sebastiano. Subito, appena ho saputo la notizia, non sto rientrando. Bonavita è fiducioso sull'operato delle forze dell'ordine. Ho la massima fiducia, le forze dell'ordine. E mi aspettano che venivano un risultato quanto prima. Credo che non sia dolore. L'avvocato, due anni fa, era rimasto vittima di un altro attentato non collegabile. All'epoca dei fatti, l'avvocato era impegnato in politica, consigliere provinciale e tra i banchi dell'opposizione in comune. In quell'occasione vide andare distrutta la sua auto in un'esplosione. È successo alcuni anni, la mia macchina, ma guarda se all'epoca stavo in politica, non so niente. E adesso parliamo dell'esordio in Serie A del Benevento Calcio, un esordio che pare proprio non aver deluso i tifosi. Sentiamo. Benevento sconfitto a Genova contro la Sampdoria, è un risultato che però non delude i tifosi. Ascoltiamo cosa ne pensano. Grande Benevento per quanto mi riguarda. Sconfitto è meritato, un pareggio era più che giusto. Però se questo è l'inizio, sono super contento, almeno per quanto mi riguarda. La sconfitta ci può anche stare, solamente che è venuta da due imprecisioni in difesa. Praticamente Quagliarella due palloni ha preso e due palloni ha buttato dentro. La partita non mi è dispiaciuta. Secondo me potremmo fare bene in Serie A. Per la prima di Aio non c'è male. Potevamo fare un po' di più, ma comunque accontentiamoci di questo. Visto che dovevamo prendere 6-7 palloni là. No, ne abbiamo pigliato appena 12. Ma vabbè, abbiamo fatto una bella partita, non ho meritato di perdere. È tutto qua. Sabato c'è il Bologna, andrà allo stadio. Noi ci pigliamo il punto, comodo. Noi auguro, vincimo il nostro piaccio. Come minimo una vittoria. È una cosa normale, solamente che mi aspetto minimo, minimo e dico minimo, 4 acquisti perché se no non si va da nessuna parte. Sinceramente. In particolare cosa serve a questo benavento? Una punta, un centrocampista e secondo me ci vuole qualcosa sulle fasce. Tre pedine, sì. È ben utile che ci giriamo intorno. Un attaccante ci vuole di peso all'avante. Centrocampo qualcun altro ci vuole e poi sulle fasce, penso. Un ricambio sulle fasce ci vuole. E adesso parliamo delle misure antiterrorismo dopo la strage di Barcellona, un livello che si innalza anche nella città di Napoli. Ma intanto il sindaco De Magistris in un lungo post su Facebook dice non è innalzando mura che siamo più sicuri. Presidiare tutti i luoghi di maggiore aggregazione, controllare gli itinerari turistici, blindare i perimetri che ospiteranno eventi e spettacoli all'aperto. Queste le tre priorità del piano di rafforzamento delle misure di sicurezza antiterrorismo a Napoli, messo a punto dalla Prefettura. Lungomare, imbarchi per le isole, centro storico. Sono alcune delle zone per le quali l'attenzione delle forze dell'ordine nel capoluogo campano è stata ulteriormente rafforzata dopo l'attentato di Barcellona. Davanti alla stazione Garibaldi sono state sistemate nuove barriere che devono ancora essere collegate con una catena di ferro. Altre barriere per impedire ad auto, camion e furgoni di violare le aree pedonali, come avvenuto a Barcellona e prima ancora a Nizia e a Berlino, saranno sistemate anche in via Toledo, cuore commerciale turistico del centro storico. Ma l'idea è di collocare barriere anti-intrusione all'ingresso di ogni zona pedonale. Aumentata l'attenzione delle forze dell'ordine inoltre sul lungomare già blindato da fiorieri e militari e in tutti i principali percorsi turistici. Il dispositivo antiterrorismo dispone la permanenza di pattuglie dell'esercito, della polizia di Stato, dell'arma e della finanza a monte e a valle di qualsiasi zona considerata sensibile. Intanto, in un lungo post su Facebook, il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, fa un'ulteriore riflessione sugli effetti del terrorismo. Ci vogliono condannare alla passività personale in un'ansia da dramma collettivo, scrive il sindaco. Il terrorismo va condannato e contrastato duramente, più efficacemente ancora, di come lo si sta facendo. Bisogna sconfiggere anche coloro che hanno prodotto il terrorismo e lo hanno alimentato, oppure lo sfruttano. La strategia del terrore è funzionale ai terroristi, ma anche a chi è così. Se non si riducono le distanze, le disuguaglianze, le discriminazioni, l'odio non diminuirà. Non è innalzando mura e tenendo lontano il diverso che siamo più sicuri, conclude De Magistris. Restiamo a Napoli, parliamo della truffa alle assicurazioni per 400 mila euro, 59 i denunciati, Maxi truffa a Napoli e soprattutto i carabinieri intervengono, quelli di Capodimonte, dove scoprono 53 finte vittime. Truffe alle assicurazioni a Napoli per un business da 400 mila euro e 59 i denunciati. Ad intervenire i carabinieri della stazione Capodimonte che avrebbero scoperto 53 finte vittime con un meccanismo rodato ed efficace strutturato con complici nell'imboroglio anche tre avvocati e tre consulenti assicurativi. Le indagini avrebbero verificato episodi tra il 2010 e il 2011. Secondo la ricostruzione dell'accusa i professionisti avevano tessuto una lucrosa rete di complicità per creare finti sinistri stradali conferiti il tutto per ottenere lucrosi risarcimenti. L'uomo chiave era proprio il medico nel frattempo deceduto all'epoca dei fatti in servizio al CTO in uno dei principali ospedali della città. Insomma, il medico avrebbe attestato l'esistenza nelle finte vittime di patologie e traumi conseguiti ai sinistri. Emblematico il caso di un finto incidente tra un avvocato e suo fratello che risultava appunto essere la vittima. Uno dei tanti casi forse creati ad arte per intascare lauti risarcimenti. Il medico avrebbe prodotto la documentazione sanitaria per le finte vittime di patologie e traumi avvenuti proprio in seguito ai sinistri. In altri casi la documentazione medica era relativa ad accessi fasulli in pronto soccorso oppure ad esami soprattutto radiografie e lastre eseguite sì in ospedali ma ad altri pazienti ignari. Una volta imbastito naturalmente il fascicolo veniva presentato alle compagnie assicurative per avviare la pratica di risarcimento. In totale sarebbero 47 i finti accidenti scoperti per i quali le compagnie assicurative avrebbero liquidato alle parti per i danni materiali e fisici oltre 400 mila euro. Oggi la notifica della chiusura delle indagini preliminari mentre procede in parallelo un'altra inchiesta su falsi sinistri in altre strutture sanitarie. Una distrazione fatale piuttosto che un malore improvviso potrebbero essere queste le cause che hanno portato il giovane 28enne di San Marzano sul Sarno a sbandare con la sua moto e a morire sul corpo. Sbanda con la moto la sua Ducati Rossa forse una distrazione o un improvviso malore che gli è costata la vita. E' morto così Gerardo Lamura elettricista di 28 anni di San Marzano sul Sarno. Tutto è successo poco dopo le 12 di ieri mattina in via Zeccagnolo al confine tra Pagani e Nocera Inferiore. In quei tragici istanti il giovane dopo aver perso il controllo del mezzo resosi conto della situazione ha cercato di frenare ma è finito contro un muretto Il 28enne è stato sbalzato violentemente sull'asfalto un impatto devastante che non gli ha lasciato scampo quando sono arrivati i soccorsi del 118 e il cuore dell'elettricista aveva già smesso di battere fatali delle lesioni pare alla colonna vertebrale sul posto sono intervenuti i carabinieri della tenenza di Pagani per ricostruire l'esatta dinamica del drammatico incidente hanno eseguito i rilievi e posto sotto sequestro la moto del giovane la salma è stata portata nella sala mortuaria dell'ospedale di Nocera Inferiore dopo l'esame esterno restituito alla famiglia per i funerali che si terranno oggi in tanti amici e parenti si sono stretti nella sala mortuaria dell'Umberto I per un ultimo saluto a Gerardo una tragedia che ha sconvolto quanti conoscevano e amavano il 28enne con la passione dell'emoto quest'ultima acquistata solo qualche mese fa era il suo orgoglio adesso ci spostiamo nel Sannio forse hanno litigato per una donna poi uno di loro è stato ferito con un colpo d'arma da taglio paura nella notte a San Leucio del Sannio hanno litigato per una donna poi uno di loro è rimasto ferito da un'arma da taglio probabilmente un coltello spuntato nel corso dell'episodio del quale ha fatto le spese nella notte a San Leucio del Sannio un 34enne di paupisi nulla di grave per lui per fortuna che guarirà in dieci giorni secondo la ricostruzione dei carabinieri della compagnia di Montesarchio la vittima di un trentenne di ceppaloni avrebbero iniziato a discutere animatamente per ragioni passionali motivo della contesa una coetanea per la quale entrambi nutrono evidentemente un interesse prima parola ad altavoce e tanta concitazione poi la situazione è degenerata con la comparsa di una lama usata contro il 34enne l'uomo è stato soccorso e trasportato all'ospedale Rummo di Benevento dove ha ricevuto le cure del caso a poche settimane dall'apertura dalla restituzione alla comunità di Avellino di piazza Libertà scatta il piano anti-degrado un piano di pulizia straordinaria affidato dal comune Erpine Ambiente nei giorni scorsi la nostra denuncia sulla sporcizia e il degrado in piazza Libertà d'Avellino ora il comune corre ai ripari la piazza sarà ripulita nel corso di questa settimana ad annunciarlo l'assessore all'ambiente Augusto Penna il servizio è stato affidato a Erpine Ambiente la società si sta dotando di nuove apparecchiature di spazzatrici sperimentali di idropulitrici eccetera in questi giorni dovrebbero appunto giungere queste apparecchiature in prova e abbiamo chiesto alla società di provarle su piazza Libertà quindi di effettuare una pulizia straordinaria della piazza è necessario fare una prova per testare il peso della macchina quale macchina utilizzare se quella grande o quella piccola per la pulizia della piazza ma voglio dire è una questione di ore ma l'intervento del comune non basta aggiunge Penna che invita tutti gli avvelinesi a un maggior senso civico e anche tra la gente non tutti scaricano le colpe sull'amministrazione a volte diciamo il gelato scorre non volendo oppure non lo fanno apposta a volte invece lo sporcano apposta c'è poco senso civico in città? molto poco è come non ci vorrei la pulizia ci vuole sempre poco senso civico il degrado c'è enorme qui da quella parte sì dove c'è la pietra pietra lavica non so che cosa che cos'è là sì c'erano dei liquami come dice lei la piazza è carina certo se ci fosse un po' più di ordine di pulizia sarebbe ancora meglio insomma non c'è molta cura degli spazi anche dell'architettura vergognoso vergognoso una città che nel degrado dobbiamo fare a quanto si cammina i miei amici mi dicono attento che ci sta il cane attento la cacata di là attento la cacata di là il fiume Selle è inquinato e rappresenta una vera e propria bomba ecologica e quanto denuncia il consigliere regionale del movimento 5 stelle Michele Cammarano nel mirino dell'esponente grillino quelli che senza mezzi termini definisce sciacalli pronti a sversare di tutto i casi sono tanti ed è impossibile controllarli il consigliere pentastellato sottolinea anche come da anni si parli del problema che riguarda il fiume ma senza arrivare mai ad una soluzione un disastro che ormai va avanti da decenni e poi se la prende con De Luca dicendo il governatore ha annunciato l'ammodernamento di quattro depuratori ma al momento uno solo lo slogan e tante le promesse e adesso parliamo un'altra volta di cultura andiamo nel sagno al via i riti di guardia sono attese 120.000 presenze con la processione del rione Croce prendono il via i riti settennali di penitenza in onore dell'assunta una manifestazione unica che rende il centro sannita di guardia San Framondi meta di migliaia di fedeli visitatori e curiosi che assistono per tutta la settimana alle processioni dei quattro rioni di guardia Croce Portella Fontanella e Piazza impegnati a mettere in scena i misteri quadri viventi tratti dalle sagre scritture seguite dei penitenti tutti si ritrovano poi per la processione generale di domenica con la presenza dei battenti penitenti incappucciati che si battono il petto con un sughero irto di spigli una settimana intensa preceduta dalla restituzione della veste restaurata dell'assunta un lavoro dell'archeologa Laura Portoghese un evento particolarmente impegnativo anche sotto il profilo della sicurezza considerata l'attesa di circa 120.000 presenze ci sarà un cordone di sicurezza che parte dai paesi vicini a guardia non si arriva né con macchine né con tir né con camion si arriva soltanto in navetta in navette diciamo certificate sono 32 navette che prenderanno i pellegrini nei comuni vicini e li porteranno a guardia e Floriano Panza specifica anche le indicazioni contenute in un'ordinanza comunale volta a vietare durante la processione generale l'uso del telefonino quindi è una scelta fatta oculatamente perché non è un divieto quello che viene imposto ma è una forma di autocontrollo cioè adesso l'invito è proprio a tutti coloro che vengono di vivere questo momento come momento diverso di gioia intima personale mettersi dalla mattina alla sera a fare fotografie credo che sia una grande distrazione questo non toglie che non si potrà fare qualche foto e intanto a San Matteo i fedeli sono in pressing sullo comune vogliono i fuochi d'artificio per celebrare il santo patrono distinguere la celebrazione religiosa da quella civile ma le paranze e i portatori vogliano che i fedeli possano godere appieno delle festività del santo patrono e soprattutto che sia un'occasione di festa per tutta la città ad un mese esatto dalle celebrazioni per San Matteo a Salerno a tenere banco è soprattutto la questione legata ai fuochi d'artificio dopo le aspre polemiche di questi anni tra l'amministrazione comunale e la curia ad 8 channel la voce delle paranze del santo è emblema di una tradizione che si vuole difendere a tutti i costi faremo quello sulle indicazioni della curia al di fuori ci sta sempre l'associazione per i fuochi che ci sta occupando di cercare di ripristinare sia i fuochi che anche un po' tutte le tradizioni che stanno venendo a mancare l'obiettivo è quello di avere i fuochi chiaramente è anche per mantenere un po' vive le attività di Salerno ed è brutto io da portatore una volta che finisco diciamo l'attività portatore che alle 9 entriamo in chiesa abbiamo fatto la nostra preghiera è finita la festa usciamo fuori dal Duomo deserto ed è questo è brutto che si viva questa giornata solamente di religione e non più anche un po' di festa pagana poi chi ci vuole condannare ci condanna noi siamo semplici persone che ci mettiamo cuore e animo e adesso torniamo in Irpini andiamo in Valle Ufita ad Ariano Irpino dove il collega Gianni Vigoroso ci racconta il successo dell'Ariano Folk Festival una forza umana impressionante che ha regalato una boccata d'ossigeno alla città più che mai preziosissima in tempi come questi non si vedeva decisamente da anni un serpentone infinito di turisti lungo le strade tutto grazie all'Ariano Folk Festival persone di ogni nazionalità e fascia di età hanno raggiunto dalle maggiori capitali europee Ariano Irpino in Campania l'Ariano Folk Festival è fondamentalmente una rassegna musicale apprezzata riconosciuta ormai in tutta Europa la critica ci onora con ottime recensioni su tutte le restate nazionali e anche internazionali però penso che per la città ci sia un ulteriore aspetto che vado sottolineato gli esercizi commerciali stanno lavorando come probabilmente non lavorano per tutto l'anno gli alberghi sono pieni non c'è un posto libero in nessuna struttura ricettiva arianese ci sono 200 persone che campeggiano e spendono ad Ariano le attività stanno andando a pieno regime credo che in un posto in cui si soffre una certa crisi veramente sensibile questo sia una cosa importante l'indotto l'altra faccia del Folk Festival sì quest'anno c'è tanta gente che viene da fuori veramente dall'Italia e anche dall'estero abbiamo tante persone che frequentano l'Ariano Folk Festival frequentano la città di Ariano e sono penso tutti abbastanza soddisfatti di come hanno trovato la città una bella cosa dell'estate e continuerà durante questa settimana avremo altri spettacoli ci sono gli spettacoli teatrali in villa non dimentichiamo quindi continuerà l'estate tutti insieme se il tempo è così caldo penso che continueremo a uscire tutti a stare tutti insieme e questo era l'ultimo servizio del nostro telegiornale grazie per l'attenzione e buona visione su 8 Channel Grazie a tutti Grazie a tutti